allora non rimane nella foto perché l'apertura del sistema avviene in 0.0 80 millisecondi e meno di un battito di ciglia il la chiusura dell'obiettivo non è così veloce chiude in 0 100 ok è così veloce perché mi si deve aprire prima che vuoi tocchi terra molto impatta io vengo disarcionato il sistema si apre fatto anche all'ultimo io l'ho detto che io simulo io faccio finta di essere ancorato la moto e succederà questo via veloce come va tutto a posto a buttare la testa adesso stai così che simuliamo marciapilla dentro i gomi per favore vado posso più forte appoggi la testa lì con la cervicale vado posso prego ci metta qua che facciamo uguale lo fa lui se tranquillo adesso fammi un favore di questo e metti quello non può fai in giro con quella roba lì adesso senti che si sta svolgendo glielo presti un attimo per cavolo no a scatare vai vuoi farlo su di me non è un po' l'era no perché se lo faccio su di lui capisce la differenza guarda sono tutti uguali fanno schifo tutti allo stesso modo non preoccupate io evito questo pezzo ma ci mancherebbe cazzo la botta provo qui posso picchiare come prima vado e magari non darglielo come prima hai sentito qualcosa ho picchiato come prima li buttiamo via pezzi di plastica le tecnologie per farsi meno male ci sono basta spendere minchiate sulle morte spendiamo qualcosa in più per noi la differenza c'è se vuoi risparmiare qualche soldino vai a parlare con quel signore lì ti dice quanto spendi oggi